Mentre ieri in Consiglio il Comune dell'Aquila ha affidato la riscossione equattiva dei tributi comunali e delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada all'Agenzia delle Entrate e Riscossioni tramite una convenzione che consentendo di riscuotere darà respiro finanziando le casse comunali, ancora si attende l'arrivo dallo Stato di 10 milioni di euro per coprire le minori entrate dopo il sisma. Come spiega l'assessore al bilancio Raffaele Daniele è tutto pronto per l'approvazione del bilancio di previsione non appena verranno approvati i fondi. Intanto si avvicina anche la scadenza del bilancio consuntivo entro il 30 aprile. Noi da parte nostra abbiamo predisposto il bilancio di previsione che è pronto per essere approvato non appena verranno trasferiti i fondi il giorno dopo può essere già approvato dall'Aggiunta. Adesso siamo alle prese invece con l'altra scadenza che è quella del bilancio consuntivo da fare entro il 30 aprile. Adesso noi abbiamo preparato una delibera sul riaccertamento dei residui che questa volta io ho voluto che comprendesse anche i residui cancellati che fossero visibili, cioè tutti quei crediti che non sono più esigibili e che comunque ho voluto evidenziati nella delibera proprio per una maggiore trasparenza. Assessore perché è così importante che arrivino questi soldi per il bilancio dell'Aquila? Perché ci sono una serie di partite di giro che per legge possono essere finanziate soltanto con le tasse dei cittadini come ad esempio quello della raccolta dei rifiuti che può essere finanziato solo con l'Atari per legge. Ora l'Atari essendoci quasi metà del patrimonio immobiliare inagibile di per sé non coprirebbe la raccolta dei rifiuti ed è per questo che lo Stato ci deve dare questi soldi. Insomma noi possiamo spostare da una partita all'altra del bilancio. Non si sa ancora la tempistica? Mi dicono che è a centimetri però ripeto io non sono a Roma, noi siamo qui. L'importante è che noi facciamo la nostra parte, il bilancio è pronto, non appena arrivano questi soldi noi li portiamo in giunta.